Poi serie di l'impalli, la palla ancora sull'Ossiamare, bella rispinta, la prima della partita del portiere dell'Odigiani. Attenzione all'opportunità per l'Ossiamare portarsi avanti due volte della rete dell'1-0, si porta avanti l'Ossiamare con il numero 17. Per l'Ossiamare, al battuta, sciogli, la rete del 2-0, velocemente l'Ossiamare aumenta il divario. Bello, il pallone conquistato, conclusione col destro, fuori di niente. Ancora l'Odigiani, riparte centralmente, bello il suggerimento, conclusione col mancino, traversa. Poi c'è un tocco di mano, sicuramente giudicato involontario. E da questo è seguito una conclusione potentissima con il mancino 2-1. L'arbitro è già pronto, col fischietto in bocca, infatti termina qui sul risultato di 2-1 per l'Ossiamare il primo tempo di questo ultimo appuntamento pomeridiano. Allora si riparte con il secondo tempo, subito una aggressione, la Lodigiani che vuole ripristinare la parità. Ricordiamo l'Ossiamare, sopra di un solo gol, è una partita fortissima, attenzione qui un errore, l'abbiamo chiamato 2-2. Il pareggio istantaneo della Lodigiani, punizione, giocata centralmente, poi conclusione col mancino. Grande parata del portiere che salva il risultato. Ciolli. Ancora il numero 9 dell'Ossiamare, ad orchestrare in qualche modo, bella la giocata del 65 che va col mancino. Eccolo qui, il gol della rimonta, 3-2. Si fa vedere Tosti a sinistra. Palone profondo, attenzione all'opportunità. La conclusione direttamente in porta. Gol destro. Il portiere la riesce a tenere lì, calcio d'angolo. Calcio d'angolo sul secondo palo. Riparte la Lodigiani adesso in un 2 contro 1. Conclusione direttamente in porta. Eccolo qui. Il gol del 4-2. Con tanto di esultanza, quasi liberatoria. L'ha fatto Marco Cola. Termine dell'ultimo appuntamento di oggi. Ciolli aggredisce e la mette dentro con tenacia. Andrà proprio Ciolli. Due uomini in barriera. Superiorità numerica dell'Ossiamare in area di rigore. Ciolli la soterra. Colpisce la barriera. Allora può bastare così. Triplice fischio dell'arbitro. 4-3 per la Lodigiani. È tutto.